Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici e a tutte le amiche di Ristretto Italiano. A Ischia cresce la rabbia e sul banco degli imputati ci sono le costruzioni illegali. Questo è, tradotto un po' liberamente, il titolo del Guardian sulla frana di Casamicciola, uno dei mille, mille titoli che si rincorrono in questi giorni sui giornali di tutto il pianeta. C'è da dire che The Guardian è uno dei non tantissimi, invece, che a Ischia ci ha mandato l'inviato che racconta. Racconta che, mentre i soccorritori continuano a scavare, la rabbia cresce per gli anni di dilaganti costruzioni illegali che hanno contribuito al disastro. All'origine di quanto accaduto sabato, il peggiore temporale degli ultimi vent'anni. Ma qui, certo, il cambiamento del clima c'entra poco. Di tragedie esattamente come questa si ammemoria da almeno un secolo, eppure si è continuata a costruire sempre, case su case, senza chiedere permesso. «Sono furioso», ha detto un ischietano al Guardian. In tredici anni è la seconda volta che tolgo questo tipo di macerie davanti a casa. Tutte le promesse, anche quelle fatte dopo il 2009, sono rimaste disattese. Conoscono i rischi, ma non fanno nulla. Il numero di costruzioni illegali, stima il quotidiano londinese, è di 28.000, in un'isola di 22.000 abitanti. E oltre alle caratteristiche morfologiche del terreno, naturalmente predisposto alle frane, ci sono l'aggravante del disboscamento con la successiva cementificazione, che hanno ridotto la capacità di assorbimento da una parte e l'accelerazione della corsa di acqua e fango dall'altra. E intanto si continua a scavare alla ricerca degli ultimi dispersi, con la consapevolezza che per i prossimi giorni sono previsti altri temporali e altro vento forte. L'Italia prevede di imporre il prossimo anno, e solo per il 2023 sembra, un'imposta sugli utili in eccesso delle società energetiche che hanno beneficiato dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Ne scrive da Londra Reuters, che ha ottenuto una bozza del bilancio in via di stesura. In particolare, leggo, il governo pensa di applicare un'aliquota fiscale pari al 50% del reddito d'impresa del 2002, se questo è superiore di almeno il 10% al reddito medio calcolato tra il 2018 e il 2021. Limite massimo, comunque, sarà l'importo equivalente al 25% del valore patrimoniale netto di ogni azienda alla fine del 2021. Le aziende italiane che producono e vendono elettricità, gas naturale e prodotti petroliferi sono in Italia circa 7.000 e questa nuova tassa, se votata dal Parlamento, la dovranno pagare a giugno 2023. I ferrovieri greci guardano con un pizzico di invidia, sembra, ai colleghi italiani che stanno per ottenere un bonus di 300 euro da Ferrovie dello Stato, che è proprietaria, tra l'altro, della compagnia greca di ferrovie traenose. La elargizione farebbe capo a un accordo con i sindacati per permettere ai lavoratori di reggere l'urto del carovita. I dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che sono circa 82.000, già all'inizio di questo mese, precisa sempre da Atene e Money Review, hanno ottenuto un esonero dalla tassazione delle cosiddette indennità transitorie pagate nel 2022 e fino a 3.000 euro per lavoratore. Beh, cambiando discorso del prete che ha trovato 40.000 euro nella cassetta delle offerte, era inevitabile che se ne parlasse anche all'estero. E la notizia di Don Arnaldo Mavero, parroco di Sant'Agata, Ornago, in provincia di Monza, la trovo sul rumeno Rotaldi e nulla. Racconta Don Arnaldo che quando il sagrestano, aprendo quella busta, trovò l'assegno, corse da lui e che sempre nella busta c'era un bigliettino con scritto «Questa è la mia offerta per il restauro dei dipinti della chiesa», ma che non c'era firma. E lui, pur rispettando il desiderio di anonimato del donatore, continua a chiedersi chi tra i suoi parrocchiani possa essere stato. È esattamente 1500 anni dopo l'ultimo spettacolo di epoca romana al Colosseo che, grazie all'uso di robottini speleologi di ultima generazione, scopriamo quali erano gli snac abituali degli spettatori che a decine di migliaia affollavano l'anfiteatro Flavio fino al 523 d.C. Ne parla la BBC da Londra, in uno speciale dedicato alle scoperte del gruppo di ricerca italiano che ha esaminato quasi 70 metri di canali fognari sotto i resti del Colosseo. Una iniziativa, soprattutto di carattere divulgativo, senza pretese scientifiche, ma attraverso la quale sono stati recuperati semi di fichi, uva, meloni, olive, pesche, ciliegie, noci, nocciole, frutti che, oggi c'è ragione di pensare, venissero portati con sé durante gli spettacoli dal pubblico e mangiati lì mentre seguivano questi spettacoli. E' interessante anche la scoperta di frammenti di foglie di bosso e di alloro usati per ornare l'arena. E' ossa di animali come orsi, leoni, chepardi, ma anche cani e persino bassotti usati negli spettacoli stessi per i combattimenti fra di loro o con i gladiatori. E poi, tra i manufatti, tanti dadi da gioco, monete, elementi di vestiario. Insomma, via via, grazie alle scoperte della tecnica, come questo robottino che, tenuto da un filo, si incunea dove nessun uomo, neanche molto piccolo, potrebbe andare a cercare le cose, grazie a queste tecniche noi riusciamo a scoprire ancora più cose di chi ci ha preceduto anche un secolo e mezzo, anche un millennio e mezzo fa, 15 secoli fa, come in questo caso. Amici, vi auguro una buona giornata, vi aspetto domani.